La Piazza del Duomo Per le prove del Festival Bar, sei qui per stare anche stasera oppure solo per curiosare? Avrei voglia di rimanere anche stasera, mi organizzerò con una mia amica per rimanere, ormai sono qui e lo vedo Come mai? Vuoi vedere qualcuno in particolare oppure no? No, in generale, tutti cantanti Mai un tuo preferito? Elisa Quindi ti sta provando adesso? Esatto Senti, per quanto riguarda invece i presentatori, i canali, Silvestringo, Lia, pensi che vadano bene oppure no? Penso di sì, sono simpatici, quindi penso di sì L'importante è che ci divertiamo tutti E se piove? C'è l'ombrello Per chi lo stai iscrivendo? Per questo gruppo, questo gruppo lo vedi? Noi I Solti Seconds Mars Ah, come mai qui? Per vedere solo loro o anche altri? Noi siamo interessati a loro Noi siamo interessati a loro Sono i migliori Gruppo americano, sì, bravissimi Siamo andati a vedere anche il concerto ieri Ah, perfetto All'Alcatraz Quindi Senti, per quanto riguarda la canali, Silvestringo, Lia, secondo te sono azzeccati come presentatori o no? Tu cosa dici? Vabbè, a me piace Silvestringo Anche a me E la canali, sì, però... La chiavata era carina l'anno scorso Siete qui per vedere solo le prove o per restare anche più tardi? No, no, per restare Avete un cantante preferito oppure no? No, non so neanche chi c'è stasera, sinceramente E se piove? Abbiamo l'ombra, il capellino e il baglioncino Senti, della canali, Silvestringo, Lia, che cosa dite? Sono azzeccati per la manifestazione oppure no? A me piace A te la canali spiace? Beh, direi di prima di sì Cioè la ragazza Però in effetti non posso Vabbè, allora soprassediamo Esatto, soprassediamo, non posso dire niente Va bene, grazie mille Ora una domanda veloce No? No Emolzionale Abbiamo visto che cantavi, mi piace Elisa Molto, molto brava Sei qui solo per le prove o anche per seguire la serata? Non so ancora, spero anche per seguire la serata E se piove? E se piove è il capellino Senti, per quanto riguarda invece i canali, Silvestringo, Lia, sono azzeccati per il Festival Baro oppure no? Non lo so, sono qui per gli artisti principalmente Quindi spero di sì, staremo a vedere È qui per accompagnare i bambini o anche per lei? Dobbiamo vedere Elisa Dobbiamo riuscire ad entrare dietro, ma perché la conosciamo Ah, ok, ho capito, quindi starà qui anche stasera? No, parlo con lei e vado via È qui per curiosare o proprio per vedere il frattore? Curiosare, stavo passando e vedo Le piace qualche cantante in particolare? Sì, di quelli che cantaranno stasera? Sì, Antonacci Ah, perfetto Pensa di tornare magari più tardi o no? Forse più tardi siccome ha moglie se non piove Ah, perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti